Cosa che difficilmente si fa o proprio non si fa è avere una buona qualità d'immagine, non avere problemi di proporzioni fisiche. Ci sono 14 telecamere che riprendono e le immagini sono montate in post-produzione per avere questo effetto a 360 gradi e il montaggio deve essere pulito per ottenere questo senso di immersione. Una ripresa pensata per chi desidera vivere l'esperienza su un set cinematografico. Per farlo bisogna indossare il visore della dorsel come ha fatto l'attrice Anna Polina che racconta la sua esperienza. C'erano 14 piccole telecamere da accendere una ad una. Io non mi potevo muovere, dovevo rimanere all'interno di un'area designata per essere in grado di creare l'effetto a 360 gradi. È qualcosa di molto innovativo, credo che sia efficace e affascinante. In questa industria ha un senso, mi piace molto. Grazie. Grazie.